Allora, iniziamo la registrazione, ok, sembra andare tutto. Benissimo, buongiorno, siamo nella terza settimana di corso e oggi parliamo di programmazione asincrona, quindi facciamo tutte queste slide quindi finiamo queste slide che sono già online nella settimana scorsa che magari avete già visto in parte, se siete andati a curiosare e poi come sempre facciamo un piccolo esempio mentre spieghiamo anzi direi che proveremo qualche piccolo esempio che ci illustra quello che stiamo imparando. Mi raccomando, la lezione di oggi è veramente importante perché capire la programmazione asincrona è uno dei cardini per programmare bene in JavaScript e soprattutto programmare nella maniera che dobbiamo saper fare per l'esame, se vi interessa l'esame ma in generale per usare le funzionalità messe a disposizione anche dall'ambiente nel quale andremo a operare, che non sarà solo il node perché lo usiamo solo per il server ma soprattutto il client, quindi nel browser. Nel browser ci sono molte funzionalità messe a disposizione che ci impongono di usare questo tipo di programmazione. e piano piano che andiamo avanti nel corso vedremo ovviamente tutti questi aspetti ma per prima cosa dobbiamo imparare il concetto e imparare ad applicarlo bene. Quindi oggi parliamo di programmazione asincrona. Per chi di voi segue col computer vi ricordo che nel browser, sul solito GitHub trovate già una serie di file che contengono il codice in WIC03 di AV1WICS che è la nostra repository per questo corso trovate già una serie di file che sono gli esempi che abbiamo sulle slide quindi sono già lì pronti solo da provarli mentre spieghiamo lo faremo anche noi quando viene opportuno ok? Benissimo quindi se non ci sono dubbi o domande su quello che abbiamo visto finora io direi che possiamo iniziare e andiamo a parlare appunto di programmazione asincrona perché parliamo di programmazione asincrona? perché il primo concetto che dobbiamo imparare è che JavaScript è single-threaded quindi può eseguire solo un flusso di esecuzione alla volta ok? Quindi c'è un'istruzione, esegue la seconda, fa la chiamata a funzione, ritorna, esegue la terza, quarta e così via ok? Quindi l'interprete JavaScript esegue solo un flusso, un thread alla volta in maniera sincrona ok? Quindi come abbiamo visto la programmazione finora c'è la prima istruzione, poi c'è la seconda, poi c'è la terza e così via e quindi non si può creare dei thread e farli girare in parallelo nel motore di esecuzione, di interpretazione di JavaScript e allora come facciamo a fare la nostra programmazione asincrona di cui vogliamo parlare? Bene, noi possiamo dire però all'interprete, quindi all'ambiente di esecuzione JavaScript che quando non ha nulla da fare vada a cercare diciamo nelle cose che sono lì in attesa di essere eseguite il codice da eseguire e come facciamo a passare questo codice a questa coda di cose da eseguire che poi chiameremo meglio tra poco usiamo delle callback noi siamo in grado, abbiamo visto l'altra volta di passare delle funzioni con il loro codice quindi è un riferimento a una funzione che quindi implica passare del codice a delle altre funzioni anche a delle funzioni dell'ambiente che le mettono in attesa da qualche parte pronte per essere eseguite ok? quindi ci sono due concetti che dobbiamo imparare riguardo a come eseguire del codice in modalità sincrona cioè che parte non al momento in cui eseguiamo l'istruzione ma partirà successivamente in JavaScript c'è l'ambiente di esecuzione ovviamente che ci deve dare il supporto perché senza il supporto dell'ambiente di esecuzione non andiamo da nessuna parte e questo supporto ci è fornito sia in Node Node.js quando parliamo dell'ambiente diciamo di esecuzione al di fuori del browser quell'interprete di JavaScript che stiamo usando e abbiamo usato finora usiamo ancora oggi sia quando andremo nel browser anche lì dentro ci sarà un ambiente di esecuzione che funziona in maniera analoga l'elemento chiave che ci fa funzionare tutto questo meccanismo è il cosiddetto event loop di cui andiamo poi a vedere una rappresentazione grafica per capire un po' meglio come funziona vediamo il primo semplicissimo esempio di codice che esegue qualcosa in maniera asincrona quindi io scrivo definisco una funzione su cui torniamo dopo poi uso una primitiva dell'ambiente quindi una funzione messa a disposizione dell'ambiente di esecuzione JavaScript quindi che è presente sia in node sia nel browser setTimeout a cui passo un riferimento a una funzione deleteAfterTimeout che vedete ho definito poi qui sopra un tempo di attesa e degli eventuali parametri da passare alla funzione che metto come primo parametro ok cosa succede nel momento in cui io chiamo questa setTimeout bene in termini di esecuzione di mio codice non succede nulla semplicemente la setTimeout dice all'ambiente di esecuzione nodo il browser di prendere questo riferimento alla funzione deleteAfterTimeout metterlo da parte e dopo 2000 millisecondi cioè dopo due secondi eseguire quel codice o meglio come vedremo tra poco metterlo in coda per l'esecuzione perché se JavaScript sta facendo del resto questo codice aspetterà ok passandogli va bene se ci sono dei parametri eventualmente chiamando in riferimento alla funzione quindi la funzione stessa con uno o più parametri che io posso passare qui come parametri successivi della setTimeout e qui dentro nella mia funzione quindi posso mettere tutto il codice che voglio codice anche complicato noi inizieremo con la nostra classica print quindi la console.log di JavaScript tanto per fare un esempio fare una prova ma posso mettere qualsiasi codice questo codice non viene eseguito subito non viene eseguito quando chiamo setTimeout ma viene eseguito dopo un certo periodo di tempo ok quindi è un codice che viene eseguito in maniera asincrona ok ok direi che possiamo possiamo già provarlo vediamo se ce l'ho già qui a disposizione se no questo è talmente semplice che forse no promise è troppo avanti read line no è troppo l'abbiamo non l'ho messo lo creiamo tanto quindi allora timeout così intanto facciamo pratica con l'ambiente use strict e poi ce lo andiamo a prendere no va bene facciamo così cost cost tanto facciamo pratica delete after timeout uguale task sì il resto c'è già ok mettiamo un po' di ordine ok facciamo console log task mi piace poco lo chiamo cambio poi il nome messaggio perché così sappiamo cosa fare messaggio quindi in realtà più che messaggio mettiamo ciao il nostro messaggio quindi abbiamo un po' adattato il nostro esempio ingrandiamo un pochino ok è troppo ok salviamo mi sembra di averlo salvato sono nella cartella giusta quindi faccio node timeout vedete che attendiamo dopo due secondi viene fuori ciao non viene fuori subito riproviamo attendiamo due secondi e poi viene fuori ciao quindi è successo quello che vi descrivevo la set timeout ha preso questo riferimento alla funzione non so più perché hanno chiamato delete after timeout vabbè comunque la chiamate come volete e ci fate dentro quello che volete passando eventualmente dei parametri ok quindi questo è il nostro primo diciamo incontro col codice asincrono quindi abbiamo scritto un pezzo di codice che facciamo eseguire in modo asincrono al verificarsi di un evento qual è l'evento? l'evento è sono passati 2000 millisecondi quindi sono passati due secondi ok adesso approfondiamo facciamo qualche altro esempio e così via quindi ovviamente programmare in modalità asincrona c'è estremamente comodo come ho detto prima dobbiamo imparare a farlo perché perché nel web quindi nel browser tutto si verifica in modalità asincrona non sappiamo quando l'utente fa un'azione farà un'azione un click da qualche parte uno spostamento del mouse piuttosto che arrivano dei dati dalla rete e così via sono tutti eventi asincroni che non sappiamo quando si verificano ok quindi è naturale per chi programma nell'ambiente web nel browser ragionare in questi termini ed è il motivo javascript ovviamente ce lo supporta bene ed è il motivo per cui dobbiamo imparare bene e in più dovete sempre ricordarvi che quando si verificano eventi in un'interfaccia che ha a che fare con l'utente bisognerebbe cercare di dare una risposta il più possibile rapida perché se no l'utente pensa che tutto si sia bloccato quante volte vi è capitato col telefonino col browser con quello che volete di toccare un elemento in interfaccia grafica e non succede niente mentre invece sapete che deve succedere qualcosa fate click almeno il bottone si illumina o non so cambia aspetto e così via se noi abbiamo un sistema che è in grado di eseguire un solo thread di esecuzione alla volta come javascript se noi stiamo facendo del resto non possiamo gestire l'evento ok quindi è importante rendere il più possibile il nostro codice eseguibile in modalità asincrona che vuol dire anche che per poter reagire il più presto possibile agli eventi che si verificano dobbiamo cercare di scrivere il meno possibile codice bloccante bloccante nel senso che fa delle operazioni per i quali non è previsto di cedere il controllo all'ambiente per eventualmente reagire ad un altro evento ok e dobbiamo cercare di limitare questo tipo di codice ovvio che se dobbiamo fare delle operazioni pesanti e questo da qualche parte andranno fatte quindi però in generale nell'ambiente web spesso non abbiamo bisogno di fare operazioni particolarmente pesanti e quindi diciamo dobbiamo cercare di evitare di scrivere del codice che si blocchi in attesa di qualcosa tipicamente di un evento come vi dicevo prima interazione dell'utente interazione con la rete e così via mentre potremmo rilasciare il controllo all'ambiente di esecuzione per fare qualcos'altro ok ok questo è un concetto che non riguarda solo il browser riguarderà anche fuori il browser quindi il nostro node che noi in questo corso usiamo sul lato server ma è un concetto più generale che riguarda l'informatica ci sono tante azioni che noi vorremmo eseguire in modalità asincrona per esempio le azioni che richiedono tanto tempo tanta attesa le azioni tipiche sono l'input output vorremmo poterle eseguire in modalità asincrona non tutti i linguaggi ci supportano questa modalità in maniera semplice per esempio se voi in C prendiamo il C che più o meno tutti conoscete leggete un file volete leggere un file fate la vostra read o cos'è che fate sscanf no come si chiama quella da file fscanf no da file finché non avete finito di leggere il pezzetto che vi interessa del file il codice rimane lì bloccato in attesa che quella funzione ritorni questo non è la maniera in cui noi vogliamo scrivere il codice in javascript no perché siamo bloccati perché se succede qualcos'altro succedono altri eventi non possiamo reagire siamo in attesa ok il C è fatto così se vogliamo fare diversamente dobbiamo usare delle primitive non bloccanti si può fare si possono fare tante cose però diciamo bisogna che le librerie dell'ambiente ci supportino tutto questo meccanismo e così via diciamo in javascript viene molto più facile molto più naturale come vedremo tra poco ok abbiamo delle primitive che non sono bloccanti molte di queste primitive non sono bloccanti abbiamo nel browser una primitiva per leggere ricavare aspettare dati dalla rete che non è bloccante quelle da file non ci interessano perché nel browser per motivi di sicurezza non si può accedere ai file però se noi sul lato server in node per esempio vogliamo accedere a dei dati su un database e quindi dobbiamo attendere che il database ti tiri fuori e ce li dia possiamo usare delle primitive non bloccanti se usiamo una libreria che ci dà delle primitive non bloccanti e così via e poi dobbiamo metterci in mente e oggi ce lo mettiamo in mente che tutti i programmi javascript sono tipicamente guidati dagli eventi come diciamo sulla slide cioè fanno qualcosa perché è successo un evento di qualsiasi tipo che diciamo ci fa eseguire del codice che noi abbiamo detto di eseguire e tipicamente l'abbiamo detto passando una callback a una qualche primitiva che sa che quando l'evento si verifica deve chiamare il nostro codice per esempio come prima la set timeout sa che quando l'evento sono passati quei tot secondi si verifica deve chiamare il nostro codice se prendiamo un'altra primitiva che so che quando arrivano i dati dalla rete e ce li abbiamo tutti deve chiamare il nostro codice possiamo farlo senza rimanere in attesa bloccati ad attendere i dati dalla rete o quando qualcuno clicca sul bottone deve chiamare il nostro codice non sappiamo quando avverrà il clic ma quando avviene prima o poi il nostro codice viene chiamato ok quindi scriviamo diciamo tutto in questa maniera e per farlo ci serve passare delle funzioni ad altre funzioni queste funzioni che passiamo come abbiamo detto l'altra volta sono le callbacks ok dunque io vi farei si no un paio di slide poi vi faccio vedere un link che vi ho messo a disposizione sul github che non è sulle slide che ci rappresenta in forma grafica quello che succede all'interno dell'ambiente di esecuzione di javascript così ci chiariamo le idee quindi tutte le operazioni tipicamente assincrone dal clic del bottone quindi dall'interazione dell'utente con il browser all'input output anche via rete perché nel browser lo faremo via rete alla gestione degli intervalli all'interfacciamento col database lo scriveremo in modalità asincrona questo è un piccolo esempio di come potremmo diciamo interagire in modalità asincrona con la console del diciamo che ci viene messa a disposizione da node quindi questo non è il browser diciamo è il primo esempio che vedreste in un linguaggio di programmazione tipo c scrivete scanf percento di qualcosa volete leggere una tastiera e stamparlo farci più uno e stamparlo ecco in javascript questa cosa arriva alla terza lezione perché in realtà l'input output è gestito in maniera sincrona quindi dobbiamo prima sapere scrivere una funzione sapere come passare a un'altra funzione e così via esiste una libreria per fare input output sincrono non la vediamo non ci serve anche perché poi un po' come in c non passerete il vostro tempo a mettere input da tastiera in c leggete da file e qui noi caricheremo i dati dalla rete e quindi lascia un po' il tempo che trova ma giusto per vedere un po' meglio questo esempio possiamo provarlo vabbè proviamo quello un po' più complicato che viene un pochino dopo c'è la read line quindi è la stessa delle slide ha solo qualche lettura e scrittura in più allora devo andare dentro read line così sapete anche come usare il codice che vi ho messo a disposizione sono dentro la cartella read line c'è questa read line slides che vedete qui sopra in realtà non so perché ok ho messo una capa che usa una libreria read line diciamo che è un po' come se voi portaste dentro lo standard input output in C in C includete degli header non la libreria va bene qui in realtà portate dentro il codice cioè vi portate dentro la possibilità di accedere al codice ovviamente ovviamente non possiamo eseguirlo così perché perché dobbiamo avere questa libreria a disposizione dobbiamo metterla vi ricordate come si fa a metterla allora o ci danno il package json quel file che ha già tutte le dipendenze quindi noi dobbiamo solo fare un'operazione che è npm install per fare ricostruire l'ambiente oppure ce lo costruiamo noi qui ho scelto di non mettere i vari package json eccetera perché siamo diciamo nelle prime lezioni così facciamo un po' di pratica le prossime volte quando avremo solo più un progetto per il web che portiamo avanti eccetera ci sarà sempre quindi come facciamo npm init ok diamo invio ecco vi volevo far vedere anche questa cosa ogni tanto ci sono dei nomi di pacchetto che non gli piacciono quindi cambiamo il nome del pacchetto read line 2 va bene ok tutto ok va bene quindi ci viene creato il pacchetto json che per ora non ha niente noi facciamo npm install read line sperando che la rete funzioni visto che aveva mandato l'avviso che ogni tanto la scollegavano però funziona lo deve scaricare dalla rete nel pacchetto json è spuntata la dipendenza read line e adesso possiamo eseguire il codice node come si chiama read line slides ok ecco torniamo al codice cosa sta facendo il codice il codice non è bloccato qui eh io ho chiamato rl question task description che mi ha stampato eh questo question è un metodo che stampa il primo parametro e poi prende una callback da chiamare quando ha il suo input e gli passa la callback quello che io ho messo dentro come input dalla console come parametro una risposta ok eh cosa sta facendo l'interprete javascript secondo voi in questo momento niente non ha niente da fare però sa che ci sono dei c'è del codice quindi delle funzioni registrate in attesa che si verifichino degli eventi per questo motivo non termina ok anche se non ha codice da eseguire e cosa sta facendo sta aspettando che si verifichi uno di quegli eventi l'evento è ehm quello che eh io scrivo da tastiera adesso e passo eh al ehm diciamo alla libreria alla readline eh che quando vedrà questo eh questi dati li passerà come ehm parametro alla callback che io ho messo eh in question quindi scriviamo task description eh prova eh ok cosa ha fatto il codice quindi l'interprete javascript ha eseguito questo codice answer in answer ci ha messo dentro prova e mi ha detto ha fatto let description uguale answer quindi description vera prova e poi mi ha fatto un altro rl question e il task importante me l'ha stampato e poi è di nuovo in attesa perché ho passato un'altra callback e così via ok adesso tanto lo rivediamo più avanti questo esempio no 23 così arriviamo alla fine eh alla fine di tutto il discorso ogni volta chiama cioè passa una callback che rimane in attesa dell'input nell'ultima io non faccio più rl question ma vado a fare un console log dico close tutto termina perché non c'è più niente in attesa di eventi ok non c'è più codice in attesa di eventi e così mi sono stampato va bene il mio dato che ho messo dentro ok quindi bisogna un po' entrare nella logica di funzionamento oggi stamattina ci entriamo e poi ovviamente ci pensate nel prossimo laboratorio ci ragionate ci ragioniamo un po' su anzi nel prossimo laboratorio ci sarò io per le prime due squadre e poi il mio collega Eros Fani per l'ultima ok quindi ancora un paio di slide e poi vi faccio vedere questa animazione che spero chiarisca le idee quindi abbiamo visto un esempio con una libreria input output che lo vediamo qua e non vedremo più perché noi non faremo input da tastiera e invece spesso ci capiterà di dover usare dei timer cioè di dire di eseguire del codice dopo un certo periodo di tempo per vari motivi perché sulla nostra pagina web dopo che abbiamo fatto un'azione dopo un certo periodo di tempo vogliamo che compaia qualcosa che scompaia che si modifichi qualcosa e così via e quindi ci capiterà spesso di usare questi timer che servono a ritardare l'esecuzione di una funzione abbiamo due primitive dell'ambiente una l'abbiamo vista prima a settimeout e c'è anche una setinterval che richiama periodicamente la nostra callback la settimeout lo fa una volta sola e finisce di la setinterval periodicamente ci rimette in coda la funzione che noi abbiamo passato come callback per essere rieseguita fino a quando fino a quando non gli diciamo di smettere ok quindi quindi a questo punto dovrebbe esservi chiaro come scrivere il codice per esempio con la settimeout ecco vi faccio una domanda se noi vediamo questo codice qui a sinistra const one sec uguale settimeout poi dobbiamo dire cosa ritorna la settimeout qui c'è una callback che abbiamo scritto direttamente in linea sapete che in javascript si possono fare questi diciamo pasticci ma saranno chiari mano a mano che li vediamo una funzione che non prende parametri e fa console.log.hey ok quindi scrive hey sulla console dopo mille mille millisecondi cioè dopo un secondo e poi e poi facciamo console.log.ai ma in realtà noi prima facciamo una settimeout che in realtà però qui non chiamiamo quindi dovremmo chiamarla da qualche parte quindi se noi scriviamo una cosa di questo tipo la console.log.hey non verrà chiamata per il momento è semplicemente registrato come codice con la settimeout per essere eseguito dopo un secondo noi in realtà la settimeout la chiamiamo scusate abbiamo assegnato one sec ma non ci serve quindi noi chiamiamo la settimeout perché questo codice viene valutato ok quindi questa callback è lì pronta per essere eseguita ok ma si aspetta il verificarsi dell'evento è passato un secondo e poi facciamo console.log.hey ok quindi il codice viene eseguito in questo ordine ma quello che compare sulla console è console.log.hey subito e poi passa un secondo si verifica l'evento è passato un secondo e allora viene richiamata la funzione senza parametri che ci fa console.log.hey e quindi ci comparirà prima hi e poi hey si c'è una domanda nel caso la nostra callback avesse avuto un valore di ritorno quello andava in 1 sec no set timeout restituisce un handle al diciamo timer ok quindi facciamo pratica mdn set timeout adesso ingrandisco un pochino quando abbiamo un dubbio di questo tipo però è giusta la domanda perché non ho detto cosa ritorna la set timeout andiamo a cercare return value ritorna un valore intero positivo che identifica il timer creato dalla chiamata la set timeout ok perché perché se noi volessimo cancellare il timeout abbiamo un id un po' come il file descriptor quando ho aprito un file per cancellare il timer ci serve più che altro con la set interval più che con la set timeout ma se per qualche motivo dovessimo cancellare il timer possiamo farlo c'è una clear timeout ok però interessante la domanda del vostro collega se noi ritornassimo qualcosa da questa callback che abbiamo messo nella set timeout che fine fa? eh ha perso ok perché perché non è previsto non è previsto l'uso ok la set timeout non ne prevede l'uso ok perché non può essere assegnato one sec ma perché one sec è già valutato in questo momento appena usiamo questo codice appena incontriamo const one sec uguale set timeout set timeout è una chiamata di funzione che viene effettuata in maniera sincrona la set timeout quindi ci deve restituire qualcosa subito ok e quindi non è che poi dopo in qualche maniera in one sec ci può andare a finire il valore di ritorno della callback ok quindi dovremmo poi trovare un altro meccanismo per gestire i valori di ritorno però questo ve lo faccio notare appunto è un'interessantissima osservazione perché magari nelle nostre callback vogliamo avere dei valori di ritorno vogliamo farci ritornare qualcosa e dobbiamo in qualche maniera agganciarlo ma per andarla a fare bene abbiamo bisogno di altre cose tra un po' ne parliamo e la cosa migliore saranno le cosiddette promise ok va bene quindi qui si tratta solo di fare due o tre prove aprite node scrivete un po' di codice fate delle prove e vedete come funzionano le cose abbiamo già incennato prima che alla set timeout possiamo passare oltre alla callback e il time cioè la durata una serie di parametri che finiscono come parametri della nostra callback sapete che javascript non fa tanti controlli per cui se la nostra callback si aspetta i parametri noi non li passiamo prenderanno undefined e se li passiamo e non li abbiamo agganciati vanno persi ma non succede nessun errore ok tutto ciò se avete dei dubbi quando siete da soli sole andate a cercarli sul manuale quindi ci sono una serie di parametri numero variabile che vengono che vengono semplicemente presi e passati alla funzione specificata come function ref quindi come prima la callback ok poi se ci sono io ci sono i miei colleghi eccetera ci chiedete ben volentieri rispondiamo se sappiamo e se no anche noi insieme a voi andiamo a cercare sulle pagine manuale eccoci questa piccola noticina che abbiamo aggiunto negli anni perché un anno abbiamo andato da fare un esercizio in laboratorio diciamo c'erano delle deadline una volta che la deadline è passata colora qualcosa eccetera non so c'era la deadline dopo 30 giorni non funzionava più niente bisogna solo fare attenzione che questa cosa non è ben specificata poi si è andati a cercarla diciamo che la set time out va bene per gli timer che non siano esagerati li specificate in 1000 secondi quindi vuol dire che avete un massimo però è ragionevole nel senso che voi di solito usate queste funzioni in una pagina web non è che una pagina web vi resta aperta 24 giorni ok se ne usassimo su server dovremmo ragionare diversamente però magari diciamo c'è questa piccola limitazione che non è tanto esplicita nel manuale per questo abbiamo messo questa piccola nota ma diciamo tanto quell'esercizio non l'abbiamo più messo in laboratorio perché abbiamo un po' cambiato le cose quindi siamo a posto così dicevo prima abbiamo la creare interval che ci consente di far smettere l'esecuzione della callback quindi di evitare che la scadenza dell'evento che quindi sarebbe il passaggio di quel periodo di tempo oppure il passaggio periodico di quel periodo di tempo con la set interval ci venga richiamata la callback ok se no non abbiamo una maniera di annullare l'esecuzione di questa callback caso mai ne avessimo bisogno la maniera è prendere il valore di ritorno che è quello che abbiamo visto prima questo one sec che ho poco espedito e se lo chiamiamo id forse ci chiarisce un po' più le idee su che cosa effettivamente è ok prima di fare questa cosa io vorrei farvi vedere appunto graficamente cosa succede dentro javascript quindi andiamo sul browser andiamo su sulla nostra pagine quindi github e 2023 quindi il sito nostro di quest'anno av1wix wix03 vi ho messo un link event loop quindi ve l'ho messo così perché il link è un po' lungo quindi è più comodo da cliccare non è nulla di segreto e ci clicchiamo sopra e ci porta una paginetta che ci fa vedere c'è anche un tizio che racconta tante cose in inglese quello che ha fatto questa paginetta però ci fa vedere graficamente che cosa succede col codice asincrono dunque ci sta tutto sì quindi qui c'è un codice molto semplice potete modificarlo diciamo non troppo nel senso che è un po' più grezzo del python tutor nel python tutor potete fare più esperimenti qui potete fare qualche piccola modifica ma non è che supporti proprio tutto javascript cosa succede qui console.log part part a poi set timeout di una funzione che fa console.log c dopo 5000 quindi 5 secondi e poi console.log parte a ok e qui graficamente vediamo che cosa succede quindi abbiamo il call stack che è quello che hanno tutti i linguaggi di programmazione che hanno le funzioni cioè io parto eseguo una funzione quindi comincio a eseguire la funzione principale la main in c qui non c'è una main perché il codice javascript inizia dalla prima istruzione del file che gli diamo ok quindi qui se faccio una chiamata funzione verrà messa sullo stack quando questa funzione ritorna in maniera sincrona viene tolta dallo stack e così via ok e poi qui dentro c'è uno spazio generico qui hanno chiamato web apis ma diciamo c'è lo spazio dove diciamo si tiene conto degli eventi che possono succedere per esempio questi timer vengono messi lì dentro se ci sono eventi asincroni come appunto la lettura dalla console vengono messi lì dentro se attendiamo qualcosa dalla rete viene messo lì dentro e così via ok hanno chiamato web principalmente perché poi lo vedremo nell'ambiente del browser però diciamo anche no dal suo spazio dove mette questi eventi e poi c'è una coda delle callback cos'è questa coda è la coda delle callback da eseguire perché abbiamo detto che javascript è single threaded quindi può eseguire un unico thread alla volta quindi se c'è qualcosa qui dentro nel call stack questa roba viene eseguita e il resto aspetta dove in coda come tutti aspettiamo in coda ed è una coda di callback perché le avremo in qualche maniera già date all'ambiente tramite una callback quindi come parametro di una funzione con del codice da eseguire al verificarsi dell'evento ok facciamo la prova è il codice semplice parte A set time out parte C dopo 5 secondi e parte A viene eseguito un po' rapidamente non c'è la maniera di rallentarlo però forse possiamo metterlo in pausa o comunque lo rivediamo quindi parte A set time out viene messo il time out qua viene eseguito il parte A dopo il time out scade la callback è andata qui sotto non c'è niente in esecuzione nel call stack e viene eseguita ok qui purtroppo non c'è la console vero no va bene ci accontentiamo adesso riproviamo quindi rerun facciamo pausa ok pausa quindi è stato eseguito console.log parte A poi è stato eseguito set time out passando una callback ok function time out associandolo a un timer che dura 5 secondi questa è la callback time out che è finita qui dentro e questo è il timer vi ho fatto il circoletto che gira per farvi capire che sta attendendo che passino 5 secondi intanto se noi facciamo resume il codice va avanti esegue l'istruzione successiva quindi ci viene fuori il part A il secondo che viene eseguito fa il console.log quindi scrive sulla console che qui purtroppo non abbiamo e poi e poi niente poi stiamo ad aspettare come succedeva prima nell'esempio che abbiamo visto stiamo ad aspettare perché perché non abbia niente da eseguire nel call stack quindi l'ambiente javascript in questo momento non ha niente in esecuzione però sa che deve aspettare perché c'è un evento che poi si verificherà ok quindi facciamo resume ok da qui è passato sotto è andato in coda nella coda delle callback se qui stessimo eseguendo dell'altro codice un for i zero i diecimila eccetera qui attendiamo che questo codice termini quando questo codice termina si va a pescare la prima callback dalla coda delle callback e si mette nel call stack e si comincia ad eseguire ok quindi adesso resume non resume ok ok ho fatto pausa si va bene non sono riuscito a fare pausa comunque me l'ha messa qui sopra quindi ha chiamato la timeout la timeout a sua volta chiama console.log.dc ok poi console.log.dc ritorna la timeout ritorna e abbiamo finito perché perché non c'è più niente qui da attendere e non c'è più niente nella coda delle callback ok questo è un ambiente di esecuzione come se fosse node e quindi se non c'è più niente da fare terminiamo node termina il browser non termina mai non è che se non ha niente da fare nella vostra pagina web si chiude il browser sta in questa condizione perché perché gli eventi possono avvenire in qualsiasi momento e non li sappiamo in anticipo il click dell'utente come faccio a sapere se l'utente adesso arrivo se l'utente clicca o non clicca aspettiamo finché la pagina è aperta sta in attesa c'è una domanda creare interrupti istantanei non capisco no non si può saltare la coda ok questo non è hardware questo è software quindi noi non possiamo interrompere l'esecuzione corrente del call stack e quindi è proprio per questo che nelle slide dicevamo cerchiamo di scrivere del codice che duri poco perché non possiamo interromperlo ok se noi abbiamo fatto il click il click il click finisce qui e deve attendere che il call stack finisca e io ho cliccato e non succede niente perché perché ok il click è avvenuto mi sono nella coda delle callback e aspetto che il codice in esecuzione termini e poi viene messa la funzione che era la callback da chiamare quando facevo il click sono alla posta non me ne vorranno le poste ma vabbè l'esempio classico c'è quello davanti che non finisce più di fare operazioni con lo sportello c'è solo uno sportello in javascript c'è solo uno sportello che è l'unico thread finché quello non ha finito non passo io ok anche se sono il primo della coda ok e poi c'è anche una coda quindi faccio un click poi faccio un secondo e il secondo click è in coda e dietro di me che sono il primo della coda sì c'è una domanda se la seconda operazione tipo questa seconda questa riga 9 console.log fosse dipendente dalla callback tipo i sì 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 quindi potremmo scrivere constid uguale e poi però se io voglio che avvenga dopo la devo portare dentro in questo momento non ho alternative non posso mettere l'if l'if se io metto se ho ben capito se io metto if che ne so id maggiore di 0 non lo so questo qui viene eseguito subito console.log viene ritardato perché e la funzione viene messa qui a destra in attesa che il timer faccia passare 5 secondi non posso farci niente se devo agganciare qualcosa dopo che si è verificato l'evento devo metterlo dentro la callback dell'evento in questo momento non ho alcuna alternativa ok e comunque logicamente resterà così anche se avremo un'alternativa diciamo sintatticamente più bella però devo far così è proprio bisogna entrare in questa filosofia ci sono un paio di domande ancora sì la variabile id c'è no no se timeout ritorna subito un id sì 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 id è subito disponibile e sì se non fosse disponibile subito sarebbe un problema se no non posso annullare il timeout ok non potrei annullare il timeout questo è il codice sincrono quindi id uguale è la seconda cosa che viene eseguita nel codice ok non so se si può fare ops no console.log parte a vediamo se se la esegue sì va bene non ci fa vedere l'id ma questo id nel momento in cui hai eseguito set timeout è disponibile ok c'era forse un'altra domanda sempre per lì no va bene comunque se avete domande ci fermiamo volentieri mi raccomando perché è da capire bene provate poi per conto vostro non si può come vi ho detto scrivere codice tanto complicato perché come dire è un emulatore didattico però ci fa capire che ci sono tre cose dentro il sistema javascript no e questo è se volete quello che chiamano l'event loop finché ci sono eventi che hanno associati delle callback tu quando non hai niente da fare prendi la prima callback e la esegui prendi la seconda callback la esegui e così via ok loop semplicemente perché gira fino a quando è esaurito la coda se sono i node poi termino se non ci sono eventi se sono nel browser aspetto comunque perché gli eventi possono sempre arrivare ok ecco ultima ultima cosa come gestire gli errori nelle callback giustamente qualcuno si poneva il problema e ma il valore di ritorno della callback e il valore di ritorno della callback va perso ok con la set timeout ma diciamo finché non introduciamo qualcos'altro va perso ok e quindi e quindi se noi abbiamo da ritornare un errore un valore o qualsiasi cosa come facciamo dobbiamo metterlo come parametro della callback ok per esempio node.js è convenzione che quando si scrivono funzioni di libreria che hanno bisogno di ritornare qualcosa e sono asincrone prendono una callback e il primo parametro di questa callback per convenzione è il tipo di errore è l'errore quello che si è verificato ok e poi il secondo sono i dati quindi adesso andiamo a leggere da un database andiamo a leggere da un file eccetera un altro parametro della callback può essere usato per i dati che abbiamo come risultato dell'esecuzione dell'operazione asincrona ok ovviamente noi non è che possiamo sognarci da questo codice come funziona noi dobbiamo andare a prendere fs adesso non so se sia proprio il modulo che si chiama fs comunque c'è il modulino che è implementa la lettura da file andare a cercarci le istruzioni della read file chi ha fatto la read file ha definito come si deve comportare la callback che noi passiamo alla read file come chi ha scritto la set timeout ha definito che la callback della set timeout viene chiamata con i parametri che mettiamo dal terzo in poi nella set timeout perché il primo è la callback e il secondo è il tempo ok tutto qui bisogna bisogna farci la mano l'occhio se volete quando programmata anche la mano ok quindi a questo punto abbiamo introdotto la programmazione asincrona abbiamo fatto qualche prova col timer che è la cosa più semplice perché il timer è a disposizione da tutte le parti non dovete installare nessuna libreria niente c'è il node c'è il browser e così via e proviamo a fare qualcosa di un pochino più sofisticato giochichiamo con un database con input output potremmo farlo con i file ma siccome poi per il progetto finale vi viene comodo il database perché così mettiamo due o tre tabelle e possiamo scrivere due o tre righe di sql per tirar fuori i dati che ci servono gestire in maniera un po' più semplice che metterci lì con i file per ogni riga facciamo i campi eccetera spezzettiamo tutto noi non ci capiamo più nulla prendiamo una libreria che gestisca un database e usiamo poi questo per l'esame intanto facciamo pratica e gestiamo le operazioni sul database in maniera sincrona ok noi per questo corso abbiamo scelto di usare sqlite che cos'è sostanzialmente è una libreria quindi non è un database server non è un programma che gira a parte un database serio ha un server un programma che gira a parte e ci interfacciate tramite rete con una username password poi avete un protocollo per scambiare i dati e così via noi usiamo una cosa molto molto più semplice perché il nostro progettino è piccolo e non vogliamo complicarci troppo la vita soprattutto sqlite ha il grande vantaggio che è appunto una libreria quindi facciamo require sqlite e abbiamo finito e ce l'abbiamo a disposizione nel server scrive su un file ha un unico file dove gestisce tutto lì dentro per conto suo e un database relazionale quindi possiamo farci select insert delete update e così via le quattro operazioni classiche diciamo sql che siete sicuramente capaci a fare possiamo definire delle tabelle e quindi possiamo avere le funzionalità di un normale database ma diciamo a una frazione della complessità perché? perché fondamentalmente abbiamo un file ci va male il database cancelliamo il file lo ricreiamo dobbiamo copiare il database copiamo il file abbiamo finito e così via anche per il progetto consegniamo il progetto e ci bisogna consegnare il database in cui ci saranno già un po' di dati consegnate il file e finito è consegnato il database ok? non è che c'è da far partire il server su chissà quelle porte con chissà quale password e così via no? questo è il motivo per cui usiamo sqlite ma di per sé potremmo usare qualsiasi altro meccanismo node tra l'altro oramai supporta di tutto noi usiamo il modulo sqlite in realtà è l'esqlite 3 versione 3 ce ne sono tante versioni diverse c'è poi anche una slide su questo però diciamo che lo usiamo in questa maniera quindi dobbiamo prima di tutto installarlo come abbiamo fatto con la readline prima come abbiamo fatto col dayjs per gestire le date ogni modulo dobbiamo scaricarcelo installarlo e poi lo usiamo come molto spesso succede prima di tutto dobbiamo aprirlo dirgli che file usare e poi quando abbiamo finito lo chiuderemo ok? e in mezzo faremo le nostre operazioni quindi avremo db, all, eccetera adesso vediamo due o tre funzioni passiamo la query select e ci viene fuori il risultato però facciamo tutto in maniera asincrona ok? quindi non ci sarà tabella uguale db all select asterisco eccetera no? perché questa è la maniera sincrona abbiamo una funzione che ritorna però finché la funzione non ha finito noi siamo lì bloccati in attesa della risposta noi vogliamo fare le cose in maniera sincrona quindi proviamo andiamo a vedere quindi db ci mette a disposizione una serie di metodi per far girare per far eseguire delle query sul database ok? database dove l'abbiamo scelto? l'abbiamo scelto qui quando l'abbiamo aperto è un file noi scegliamo un file un file uguale a un database ok? ne useremo sempre solo uno quindi non c'è tanto da discutere su questo se se si apre senza errori cioè il file esiste se non esiste forse viene creato adesso non ricordo più cosa fa la funzione database in caso che non esista mi sembra che lo crei vuoto se si può si può scrivere eccetera e poi possiamo eseguire delle query SQL cos'è? è una stringa una stringa con la query SQL select asterisco from esami from si nelle slide avevamo ancora esempio esami se no from risposter from answers eccetera i parametri eventuali della query adesso poi vediamo qualche esempio e poi e poi è asincrona e poi una callback una callback da chiamare quando l'operazione è terminata il database ci mette il suo tempo fare le superazioni se ho 10.000 righe voglio fare la selection una condizione deve filtrarmi le righe leggerle dal file e fare tutte le superazioni quando ha finito mi dà la risposta come fa a dire che ha finito? mi chiama la callback la callback l'ho scritta io ok? e i dati mi arrivano col meccanismo che dicevamo prima chi ha scritto SQLite 3 ha deciso che la callback prende due parametri callback che passo adb all due parametri uno l'errore eventualmente select asterisco from una tabella che non esiste sarà un errore ogni tanto le query SQL danno errore normalmente nel vostro codice non succede perché l'avete testato ma magari fate una prova sbagliate il nome della tabella e non c'è niente da fare select quindi error se non ci sono errori quindi possiamo fare un test sull'error ci vengono dati i dati e le varie funzioni che agiscono sul db differiranno in come ci danno i dati la all ci dà tutti i dati del risultato della select tutti insieme in un array quindi rows è un array ogni riga cioè ogni elemento contiene una riga della tabella risultato dell'esecuzione acquiri SQL forse fields non è il termine più appropriato diciamo che ogni riga della tabella e poi ogni riga contiene a sua volta i campi quindi le colonne della tabella ma lo vediamo sull'esempio tanto verrà molto chiaro ho un paio di altri metodi per fare l'esecuzione delle query SQL diciamo di tipo select quelli che mi restituiscono la tabella posso avere la get per tirare fuori solo la prima riga perché magari non mi interessano tutte le righe e ho la each che mi richiama la callback una volta per ogni riga ok quindi è diversa da prima prima la callback viene chiamata una sola volta con la all una sola volta con un array che contiene tutte le righe qui ho una callback che viene chiamata una volta per ogni riga risultato della query ok perché mi può servire perché così se ho 10.000 righe magari dopo che ne ho viste un po' voglio fare altre operazioni voglio smettere eccetera posso farlo se invece io ho una db all e mi ritorno a tutte le righe devo prendermi un array 10.000 elementi devo allocare la memoria eccetera quindi sono tutte cose diciamo da considerare quando uno ha bisogno se usare uno o l'altro diciamo che la itch nel nostro caso nei nostri esempietti non è così fondamentale perché avremo pochi dati però vi potrebbe tornare come dalla get perché per esempio andate a cercare se l'utente esiste nella tabella degli utenti o c'è o non c'è quindi o c'è zero riga o c'è una riga e quindi potrebbe esservi più comodo per esempio ok e poi e poi ci sono una serie di funzioni forse una in realtà solo una che vanno per tutte le altre query che non sono di tipo select quindi che non restituiscono una tabella ma fanno operazioni su database cioè db run sql che può essere beh la create table la lasciando a parte diciamo che le tabelle le creiamo separatamente noi a mano insert update e delete con i parametri che appunto secondo della necessità saranno dentro la query te li vediamo negli esempi e anche qui ho una callback siccome qui non c'è non ci sono dei dati di risposta ok qui ho un solo parametro che è l'error ok perché voi fate insert e cosa viene fuori con la insert non c'è una tabella si vi dice ok l'ho messo no non ok c'è stato un errore perché duplicate la chiave primaria perché avete sbagliato il nome della colonna non lo so avete scritto la query in maniera che non va o i dati non sono compatibili con quelli che già ci sono stessa cosa update delete e così via ecco qui è l'unico posto dove bisogna fare un attimo di attenzione perché la callback se noi vogliamo avere accesso a due valori che ogni tanto ci servono che sono l'eventuale row id per le query di tipo insert quindi inserisce una nuova riga ci da l'id generato dal database no oppure il numero di righe che sono state modificate dalla query che sono un update update e mettete where che sono utente uguale a Enrico e c'erano tre righe e vi dice tre e voi sapete che avete modificato tre righe bene queste informazioni che avrebbero potuto passarvele come secondo parametro ma non l'hanno fatto hanno fatto diversamente e le passano in questa maniera le passano accessibili col col dis dentro la callback e per far funzionare questa cosa lo vedremo quando parleremo del dis non potete scrivere l'arrow function qua dovete scrivere per forza function ok quindi prima ho messo l'arrow function che ci piacciono tanto perché sono compatte questo è l'unico posto dove non potete scrivere l'arrow function se avete bisogno di accedere a questi valori se non ne avete bisogno fa lo stesso però se non scrivete sotto forma di arrow function il dis non viene agganciato correttamente quindi non ha quelle due proprietà non ha quei due valori accessibili ok direi che possiamo ah no ecco parametri queries e poi proviamo gli esempi quindi c'era ancora un parametro questo code no questo tra parentesi qua del secondo qui ho scritto code spieghiamo cos'è bene cosa serve questo secondo parametro serve a rendere le query parametriche cioè possiamo scrivere una stringa sql con dei placeholder cioè delle caselle da riempire con dei valori no per esempio select asterisco from course where code uguale e non lo sappiamo perché dipende da quello che vogliamo cercare il codice corso piuttosto che l'id della risposta e così via allora ci sono due modi ok o creiamo la stringa sql al volo e quindi facciamo select asterisco eccetera eccetera where code uguale chiusa virgolette più il codice convertito in stringa oppure usiamo questo meccanismo tanto comodo dei placeholder col punto interrogativo che non è sql è supportato dalla libreria sql3 diciamo che è abbastanza diffuso però la libreria sql3 lo supporta quindi quando vede il punto interrogativo sostituisce che cosa i valori che mettiamo in questo array come secondo parametro della nostra chiamata la db ok quindi per la get la all eccetera c'è sempre se tornate indietro vedete ci sono sempre questi paras tra quadri perché sono un array sono sempre un array se ce n'è uno solo ne mettiamo uno solo ma se avete più punti interrogativi in ordine vengono sostituiti quindi where code uguale and non lo so date uguale non lo so avete due punti interrogativi e avrete due parametri qui si parametri mettiamo aperte chiusa quadra quindi l'array vuoto e abbiamo chiuso lì ok si oppure statement ok si dice il vostro collega lo dico per la registrazione ci sono due modi per eseguire le query di solito immediato oppure prepare statements dice e vuole sapere i prepare statements su SQLite 3 non credo diciamo che la libreria è semplice e non come dire non ha questa necessità i prepare statements in realtà vengono fatti per poter accelerare l'operazione e poi l'atto database server diciamo che qui la libreria è non voglio dire un giocattolo però è una cosa per gestire pochi dati la query viene presa interpretata eseguita nel momento in cui gliela diamo non possiamo pre-prepararla però è vero che questa sintassia somiglia molto ai prepare statements forse per quello che le è venuto in mente perché nei prepare statements noi prepariamo la query non sappiamo magari i valori che vogliamo metterci dentro e mettiamo dentro questi punti interrogativi diciamo che siamo un po' a metà però in realtà non abbiamo un db prepare e gli possiamo passare la query e poi avere un id e eseguire quella query perché? perché fondamentalmente è una libreria diciamo per fare qualche prova o poco più ok vi ho detto che si può creare questa query anche concatenando le stringhe ma qui sotto c'è scritto mai stringa cioè quindi con la concatenazione ok perché? perché allora quando noi giochichiamo così per fare un po' di esercizi possiamo fare tutto quello che vogliamo ma poi quando andate a portare questo codice su un server vero i parametri come questo code gli id eccetera magari arrivano da una fonte che non è sicura c'è la rete e quindi può darsi potrebbe darsi che questi parametri contengano non solo il valore che noi ci aspettiamo quindi un codice corso un numero e così via ma di tutto perché? perché arrivano da una fonte insicura arrivano dal client e potrebbero essere stati manipolati o anche non solo dal client da qualcuno che ha accesso la nostra API e ci manda dei dati farlocchi per per crearci dei problemi ok se quindi tipo non so mettiamo se code giusto per fare un esempio per fissare le idee il valore di code non fosse che so 0 1 cos'è il codice di questo corso non so più qual è e fosse 0 1 è punto e virgola drop table course se noi la concateniamo diventano due istruzioni SQL che magari vengono eseguite così come sono e il risultato qual è? si facciamo la select e poi cancelliamo la tabella che ovviamente non è quello che vogliamo ok quindi se noi usiamo però la sintassi col punto interrogativo la libreria ci garantisce che non interpreterà mai come codice ciò che sostituisce al punto interrogativo quindi può esserci scritto dentro qualsiasi istruzione SQL è anche la più dannosa e non verrà mai interpretata come codice no? che è già qualcosa è vero che ci va come codice dentro se non facciamo ulteriori controlli un numero punto e virgola una stringa eccetera eccetera però almeno non viene eseguito il codice quindi non ci distrugge il database non ci succedono cose strane sul DB per avere la garanzia che ci vada solo quello che interessa a noi dovremmo fare un'ulteriore verifica cioè se noi il codice corso ci aspettiamo che sia di 5 lettere anzi di 5 caratteri i primi due numeri i primi due cifre e 3 lettere dobbiamo mettere un controllo a monte per verificare che questa cosa sia vera prima di andare a farla a query aspetta a noi ma se solo noi che scriviamo l'applicazione sappiamo questa cosa e possiamo decidere di farlo ok però per proteggerci nel caso in cui fossimo un po' imprudenti noi vi consigliamo diciamo che anche facciamo abbastanza attenzione all'esame che le query siano scritte in questa forma col punto interrogativo e i parametri passati come array come secondo parametro della primitiva che state usando get, all eccetera ok quindi usare sempre query tipo parametriche quelli col punto interrogativo e mai concatenazione di stringo i template literal che sono uguali perché alla fine sostituiscono automaticamente una stringa dentro un'altra ok ma il risultato è sempre una stringa troverete quando vi comincerete a voler scrivere cose complicate che non sempre si può usare il punto interrogativo in tutte le query nel senso che ci sono alcune query in cui il punto interrogativo non funziona bisogna scriverle in forma diversa piuttosto fare due query e così via però non possiamo derogare diciamo da questa regola perché ci risolve un sacco di cioè ci annulla un sacco di rischi io direi che potremmo fare la prova nel codice proprio di questo esempio così vediamo anche come funziona tutto l'assincrono vediamo installare SQLite 3 di gestire il db e così via ok e poi torniamo alle slide allora io vi ho messo online c'è transcript forse è qui e qui ris eh SQLite slide oh grazie potevo chiamarlo transcript grazie mille era un po' più semplice allora allora siamo nella cartella SQLite 3 quindi prima cosa cambiamo cartella ok e qui ci sono solo questi file quelli che vedete qui a sinistra quindi se io eseguo in questo momento non funziona ricordatevi SQLite 3 slide non funziona perché perché non c'è SQLite 3 devo fare repository e cioè devo inizializzare il repository npm e installare SQLite 3 ok quindi lo facciamo npm init diamo un nome qualsiasi va bene tanto non ci interessa e poi npm install SQLite 3 dalla prossima volta vi do il package json e faremo solo più npm install senza parametri tutto verrà caricato creato eccetera del package json ok ve l'ho già fatto la scorsa settimana per l'esempio che abbiamo fatto in aula con il dayjs vedete che ogni tanto ci va un po' più di tempo a seconda della complessità della libreria cosa si porta dentro come è fatta eccetera è chiaro che dayjs permettetemi di dire sono qualche centinaia di righe di codici javascript no fa un po' di conti sui numeri le date l'SQLite 3 è un po' più complicato devo interpretare le SQL magari un pezzo in codice è nativo se lo compila mentre lo installa fa un po' di cose comunque prima o poi finisce ok in realtà appunto ha installato 105 pacchetti giusto per farmi capire come funziona l'ambiente node npm no perché poi ne usa uno magari per fare il parsing della stringa ne usa un altro per fare un accesso a file ne usa un altro per fare un'altra cosa quindi c'è una serie di dipendenze però gestito tutto da solo a noi diciamo interessa il risultato quindi questo node modules di SQLite 3 si è riempito di pacchetti ma diciamo dipendono tutti sono tutte dipendenze di SQLite 3 quindi nel momento in cui installa SQLite 3 ci pensa l'npm a mettere tutto a posto a questo punto adesso non so cosa succede perché c'è il file exams quindi chiudiamo il resto chiudiamo il node modules c'è il file exams SQLite bisogna vedere cosa c'è dentro facciamo un'esecuzione si qualcosa viene stampato va bene prima di andare a vedere cosa succede voglio ancora dirvi allora che noi come istruzione no troppo come istruzione facciamo quella della slide dopo dopo require apriamo il database SQLite database exam SQLite quindi deve esserci un file exams SQLite solo che col visual studio code è un po' scomodo non si vede niente si lo apro e allora non lo voglio neanche fare vengo fuori dei caratteri incompressibili è un file binario allora come facciamo a gestire questi file io vi consiglio di installare un programmino che gestisca i file SQLite SQLite è un formato abbastanza standard trovate un sacco di programmi open source gratis eccetera in giro per tutte le piattaforme per gestire questi file qui c'è per esempio db browser for SQLite ok è un programmino come tanti altri ma uno vale l'altro questo forse non è neanche il migliore ma forse è uno dei più comodi per Linux e andiamo aprire il database che ho messo in corso github week 3 SQLite quindi questo exams SQLite e che dunque si ingrandisce no dobbiamo un attimo accontentarci e che fondamentalmente ci dice cosa c'è dentro dovete accontentare perché non so come ingrandire non so se c'è un view preferences forse c'è data browse però mi sa che sono solo i dati questo nei dati viene più grosso ok c'è prima di tutto la struttura ci sono due tabelle course e score ok poi c'è browse data possiamo vedere i dati questa è la tabella course c'è scritto qui sopra course ok e questi sono i dati che ci sono dentro la tabella se noi prendiamo la score questi sono i dati che ci sono dentro la tabella score ok ovviamente chi è che ha fatto questo database poi l'abbiamo fatto noi l'anno scorso quello prima siamo messi lì no file new database poi verrà fuori da qualche parte sarà un bottone create table crea la tabella metti questi campi uno intero l'altro è stringa text eccetera ok e abbiamo messo dentro un po' di dati ok quindi abbiamo un semplice db in cui abbiamo a disposizione un paio di tabelle con un po' di dati e possiamo provare a interrogarlo a modificarlo a far girare delle query e così via ok benissimo quindi non potete vederlo qui dentro meglio c'è qualche estensione però di nuovo non sono tanto comode vedete voi insomma qualsiasi programma che gestisca questo formato standard va bene ok concentriamoci ora sul codice una volta che abbiamo aperto il database e non c'è stato un errore quindi se sbaglio il nome del file ovviamente non funziona più giusto per farvi vedere cosa capita cosa viene fuori mi viene fuori ifrthrower mi ha lanciato questo errore che però io sostanzialmente ho ignorato sono andato avanti lo stesso col codice e poi il codice non ha più fatto nulla perché fondamentalmente su db non potevo chiamare il metodo all e quindi non c'era nulla da fare ok diciamo che questo errore non dovrebbe mai verificarsi quindi possiamo lasciarlo lì così perché fondamentalmente è solo se sbagliamo il nome del file ok per il resto nelle query eccetera possiamo poi pensare di gestire un po' meglio gli errori però prima di gestire gli errori vediamo di gestire il codice cioè di scrivere qualcosa che funzioni allora cosa facciamo cominciamo dall'operazione più semplice fare una select sapete il db è popolato quindi ci sono dei dati facciamo una select e tiriamo fuori dei dati allora sql select asterisk form course left join score on scorso scrivete tutto quello che vi pare in sql possiamo anche farla più semplice possiamo anche fare select asterisk from course senza la join fa lo stesso ok e poi che facciamo db all all sulle slide era quella che ci faceva girare le select cioè quella che dà come risultato una tabella ce la dà tutte insieme va benissimo per primo esempio va benissimo ok non ci sono parametri perché nell'esempio non ci sono parametri cioè non c'è un punto interrogativo nella query e quindi non abbiamo messo l'array dei parametri perché e anche qui bisogna andare sulla all di sql i3 vedere come è stata definita se andate sul manuale ci sarà scritto se il secondo parametro è un array viene preso come i valori da mettere nell'acquire al posto dei punti interrogativi se il secondo parametro è già un riferimento una funzione e la callback da chiamare evidentemente non ci saranno parametri ok quindi è una comodità ok mi sembra che funzioni anche con l'array vuoto adesso non stiamo lì a paccioccare comunque sono tutte cose che piano piano imparate se non funziona andate a vedere su internet sulla manuale magari manuale un po' più come dire è meglio perché su internet si trova un po' di tutto il suo contrario noi guardiamo il codice il codice cosa dice poi dopo questo esempio facciamo pausa però cerchiamo di chiudere questo esempio il codice cosa dice passa una callback con due parametri error e rows perché error e rows perché la db all è stata definita in questa maniera vuole una callback con due parametri error e rows cioè error se ci sono degli errori ci verrà messo lì dentro il valore dell'errore non so non so neanche cosa sia se una stringa o un oggetto ma diciamo visto che non c'è errore non ci interessa in questo momento rows e sono i dati quindi sono un array in cui ogni elemento una riga della tabella risultato della select ok quindi allora cosa facciamo nel codice della callback facciamo tutto quello che dobbiamo fare una volta che abbiamo i dati ok quindi if error throw errors e throw error va bene diciamo che questa è una maniera un po' grezza di gestire l'errore però per ora ci accontentiamo poi dopo mano a mano che andiamo avanti nel corso magari troviamo un sistema migliore e poi prendiamo i dati no for let row off rows console log row me lo stampo ok result push row quindi cosa sta facendo sta prendendo result e gli aggiunge all'array vuoto la riga ok e poi e poi facciamo console.log asterisco for let row off result console.log row code row name eccetera ok quindi diciamo così questo risponde in parte a un dubbio che un vostro collega prima aveva come facciamo a portare fuori i dati dalla callback non possiamo darli come valore di ritorno no perché abbiamo detto che questo valore di ritorno non va da nessuna parte e allora che facciamo li prendiamo e li passiamo a una variabile che sta fuori così ce li abbiamo a disposizione fuori no tra l'altro vi faccio notare così per inciso che nel momento in cui voi usate result avete fatto la famosa closure su result di questa funzione di questa callback e passate alla db all la db all non sa niente della vostra variabile result ma la funzione che gli passate si no e questo è il meccanismo della closure che ci serve perché nel momento in cui avete la closure alla vostra libreria non serve più sapere poi cosa fate tanto sapete che la callback che passate ha accessibilità può accedere alle variabili del vostro codice perché ne ha fatto la closure ok perché la variabile uscita di scope perché una volta che voi avete eseguito il db all avete passato la callback la variabile result no e esce di scope per la per la callback no però mantiene la possibilità di accederci quindi quando verrà chiamata in uno scope differente che è quello della libreria della db all avrà la possibilità di accedere al nostro result questo è solo un inciso però giusto per vedere in pratica una closure che non sia artificiale come quell'esempietto che abbiamo visto l'altra volta va bene e questo codice funziona adesso lo proviamo eh io commenterei un attimo questo console.log perché ci dà un po' fastidio ok quindi risalvo e vediamo un po' se funziona non funziona ok perché perché la console.log cioè scusate la callback no avevo tolto la console.log perché se no sembrava che funzionasse ma perché la callback viene eseguita in maniera sincrona quando ha finito l'operazione di select e noi nel frattempo che facciamo andiamo avanti col codice quindi cosa succede let result array vuoto let sql una stringa db all chiamiamo passandola a callback e poi e poi non aspettiamo nulla e poi facciamo console.log asteriski for let row of result console.log di quello che c'è dentro e avanti solo che result non ce l'ha ancora riempito nessuno ancora un array vuoto perché perché la callback non è ancora stata chiamata e non è ancora finito di essere eseguita proprio non è ancora stata chiamata perché non è ancora stata chiamata ma perché il codice in javascript va avanti fino a che non si svuota questo call stack e quindi il codice andrà avanti fino in fondo e solo dopo anche se il db all l'avesse già finito la callback verrà messa qui sotto nella callback queue passa di sopra viene eseguita e ci riempie questo result ok e allora come facciamo aggiustare questo codice non è semplice allora se vogliamo vedere che funziona cioè che quindi ci diamo la soddisfazione di eseguire la query e vedere che tira fuori dei dati ci facciamo il console log dentro dentro la callback così siamo sicuri che almeno la callback è stata eseguita una volta no? ma questo diciamo ci dà una magra soddisfazione facciamolo pure qui c'è quello di prima asteriski end of list quindi il result è vuoto ok e poi e poi girando qui dentro nel console log che fa result push io mi stampo quello che ho tirato fuori con la select no? così intanto ne approfittiamo per vedere che ogni riga è un oggetto che ha delle proprietà che sono i nomi delle colonne no? codename cfu ok? quindi questo l'abbiamo lasciato un po' implicito sulle slide ma così l'abbiamo visto no? codename cfu sono tre proprietà che ci vengono settate automaticamente sulla base dei nomi delle colonne e quindi come facciamo a mettere questo result a riempire questo result a aspettare per andare avanti e fare in modo che vado avanti a fare il console log con gli asteriski eccetera e stampo dopo che il result è stato riempito utilizziamo un timer un timer è un'ideuccia sì possiamo provare ci diamo questa soddisfazione vi avrebbe da interrompere la registrazione sarebbe meglio non vederla diciamo che col timer però non siamo sicuri che effettivamente sia passato un tempo sufficiente per cui la callback sia stata eseguita diciamo è un'idea che può funzionare per curiosità quindi però interrompo la registrazione perché poi qualcuno me lo fa all'esame e ci vengono i capelli dritti ve lo faccio vedere dobbiamo avere un meccanismo alternativo se no se no non c'è altro modo se non fare quello che abbiamo fatto cioè prendere e portare tutto il codice dentro la callback non possiamo fare altro per ora ok nella seconda ora e mezza troviamo una soluzione facciamo così adesso interrompo la registrazione scrivo due righe le faccio vedere prima di riprendere col set timeout così effettivamente scopriamo che se facciamo il set timeout diamo tempo alla callback di essere eseguita e ci ritroviamo il result pieno però non abbiamo agganciato le cose no preghiamo che che ne so in due secondi il db finisca di eseguire il codice della select ci riempie il nostro array ok interessante idea va bene facciamo pausa e in dieci minuti intanto faccio questo esperimento